Ciao, sono Federico Tontodonati, ho 25 anni e studio comunicazione interculturale. Faccio la marcia e quest'anno ho vinto i campionati italiani universitari e ho partecipato alla Coppa del Mondo Senior nella 50 km. Concilio lo studio con l'allenamento dando precedenza all'allenamento, nel senso che mi alleno circa 6 ore al giorno, 5-6 ore al giorno e a fine giornata o soprattutto nel weekend studio. Ho scelto la marcia quasi per caso, nel senso che il curso organizzava una gara e qualcuno doveva coprirla. L'ho coperta io, mi sono divertito e ho continuato. Ho fatto dei buoni risultati e allora ho iniziato a crederci e quindi mi sto ancora allenando. Spero di fare delle gare importanti. Torino come città universitaria è ad hoc, perché oltre a offrire diversi campi di studio e diverse possibilità sportive è a grandezza d'uomo, quindi una persona si può permettere di svolgere più attività nell'arco della giornata e di svolgerle a tempo pieno, di farle bene.